Il Festival al Castello dell'Arancia ospita anche delle mostre che arricchiscono il Festival di Pop Sofia. Quest'anno una collaborazione particolare, la Biennale Internazionale dell'Umorismo di Tolentino incontra il Museo della Caricatura di Forte dei Marmi, con una mostra dedicata a un grande artista del post-impressionismo francese, Toulouse-Lautrec. Verranno esposti i numeri della rivista satirica L'Erir, dove Toulouse-Lautrec ha tratteggiato in delle caricature splendide i protagonisti della sua epoca, dei cabaret, i politici, gli artisti che circondavano la sua vita. Ecco che con pochi tratti, con pochi colori, Toulouse-Lautrec riesce a caricare le immagini che disegna e a restituirci l'identità di questi personaggi. L'umorismo non parla solo attraverso la filosofia, ma anche e soprattutto attraverso l'arte nel nostro Festival di Pop Sofia.